Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. In A11 traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. Sulla statale 64 Purrettana, in provincia di Pistoia, lavori di riqualificazione della Galleria Signorino dal km 12.600 al km 13.800. Il traffico è regolato a senso unico alternato con semaforo. Per la viabilità cittadina a Firenze, in Viale Amendola, chiuso il controviale tra Via Giotto e il numero civico 48. Per i treni, a causa di avverse condizioni meteo, sulla linea Siena chiusi, i treni potranno subire ritardi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!